Ciao a tutti, oggi nuovo video, vi facciamo vedere un nuovo meal prep con quindi una nuova organizzazione settimanale dei pasti fateci sapere con un bel mi piace se volete vedere altri video di questo genere e io vi lascio subito al procedimento di quello che abbiamo fatto ho fatto la polenta che andrò a tagliare e cuocere in padella o in forno aggiungendo poi un condimento che farò sul momento può essere un sughetto, possono essere un po' di verdure saltate in padella dipende poi da quello che avrò in frigo poi abbiamo fatto della zuppa con le verdure che erano avanzate in questo caso basterà aggiungere un pochino di acqua e poi sistemare di sale se necessario abbiamo fatto il risotto che anche in questo caso andrò a cuocere in una padella, in un tegame aggiungendo semplicemente dell'acqua, è un semplice risotto con funghi e zucca ho fatto le polpettine con gli spinaci e le patate, sono venute carinissime queste le andrò sicuramente ad accompagnare a un po' di insalata o carota julienne, radicchio insomma dell'insalata fresca di stagione e sicuramente un pochino di hummus di ceci e infine i polpettoni di verdure anche in questo caso li andrò a cuocere in forno e li accompagnerò con della verdurina fresca un po' di hummus oppure una maionese vegan fatta con il latte di soia che viene squisita e ci sta benissimo sul polpettone tutte queste cose le andrò a congelare tranne la polenta che sarà invece la prima cosa che andrò a mangiare iniziamo affettando le nostre patate, io le ho sbucciate, lavate, adesso le faccio a pezzettoni come sempre le cuocio nella vaporiera però voi potete anche lessarle semplicemente in acqua io le metto al microonde semplicemente perché faccio prima ora che le nostre patate sono pronte le possiamo schiacciare io le faccio direttamente con la forchetta così anche se rimane qualche pezzetto un po' più grosso va bene lo stesso, anzi nel polpettone poi mi piace anche di più possiamo affettare adesso i funghi li vado a fare affettine sottili sottili, in realtà li sta tagliando Federica e li andiamo poi a passare un pochino in padella perché a me piace sempre togliere l'acqua di cottura del fungo prima di aggiungerli agli altri ingredienti così vi dirò la verità, li trovo più digeribili però se voi non ci avete mai fatto caso, li avete sempre usati direttamente crudi potete tranquillamente evitare questo passaggio aggiungiamo a questo punto un bel giro d'olio e mescoliamo, facciamo direttamente con le mani anche perché la padella è davvero piena un pizzico di sale e siamo pronti per mettere sul fuoco abbiamo messo in una pentola l'acqua l'abbiamo fatta bollire e adesso poco alla volta vado ad aggiungere la farina di polenta questa è quella istantanea aggiungiamo un filo d'olio e una presa di sale e continuiamo a mescolare la polenta nella pentola dovrà cuocere circa 3 minuti quindi è molto molto veloce ungiamo una teglia io utilizzo una teglia di vetro la polenta è bollente quindi non utilizzate la plastica la ungiamo bene e ce la possiamo versare dentro la livelliamo bene in superficie e adesso questo dovrà semplicemente raffreddarsi prepariamo adesso le verdure quindi andiamo ad affettare a pezzettini piccolini le carote affettiamo adesso a pezzettini la zucca che abbiamo prima pulito bene dalla buccia esterna e possiamo fare a rondelline anche il cipollotto va benissimo la cipolla va benissimo lo scalogno noi avevamo i cipollotti e utilizziamo questi poi devo dire che a me piace molto di più il sapore rispetto alla cipolla classica infine possiamo tagliare a pezzettini anche la zucchina sappiamo che non è proprio di stagione ma ce l'avevamo nell'orto quindi l'abbiamo utilizzata con tranquillità e serenità possiamo versare tutto quanto nella padella e le nostre verdure sono pronte per essere cotte a questo punto dobbiamo semplicemente condirle aggiungiamo quindi un pochino di olio una bella presa di sale aggiungiamo anche un pochino di aglio in polvere bassa poco e se volete qui potete aggiungere altre spezie a piacere erbe aromatiche secondo i vostri gusti a questo punto non ci rimane che dare una mescolata e possiamo mettere sul fuoco io metterò il coperchio così da permettere alle verdure di ammorbidirsi bene per il risotto andiamo ad utilizzare questo riso che è quello integrale tipo il basmati e il taibon abbiamo tagliato a pezzettini la zucca e adesso possiamo aggiungere un pochino di cipolla qui come sempre con la cipolla andate a gusto adesso aggiungiamo il nostro riso il pacchettino è da mezzo chilo e abbiamo calcolato che serve per circa sei porzioni però noi lo utilizziamo tutto siamo qua e lo facciamo in abbondanza così ce lo troviamo comunque pronto aggiungiamo qualche cucchiaiata di funghi e adesso condiamo con un pochino di olio un pochino di sale e un pochino di aglio in polvere questa volta pochino 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 vabbè qui sono sei porzioni ci sta mettine ancora e come sempre per ogni ricetta qua poi potete sbizzarrirvi voi con gli ingredienti che vi piacciono di più quelli che di solito mettete nel risotto ai funghi mescoliamo questo riso integrale ha una cottura di circa 35 minuti che è il tempo davvero perfetto per cuocere bene bene la zucca e farla amalgamare perfettamente al riso poi diventerà quasi una crema ma non sarà del tutto spappolata è proprio il tempo perfetto e poi quando ne avrete bisogno basterà aggiungere l'acqua per conservare il nostro risotto andremo ad utilizzare questo nuovo macchinario lo andremo a mettere nei sacchetti ai quali poi faremo fare il sottovuoto questo è un macchinario che ci hanno mandato lo stiamo utilizzando insieme a voi poi più avanti faremo sicuramente una recensione con le nostre impressioni lo divideremo in tre sacchetti in modo da fare due porzioni a sacchetto per prima cosa andiamo a mettere il sacchettino nella vaschettina salvagoccia questo servirà appunto per raccogliere eventuali gocce di liquido per chiuderlo dobbiamo fare pressione ai lati del macchinario e vedete che usciranno i due bottoncini con il segno rosso a questo punto possiamo far partire la macchina e premiamo il bottone al centro insieme ad una parte degli spinaci tritati andiamo ad aggiungere le uova queste saranno per circa due cene aggiungiamo anche le lenticchie già cotte scolate anche e un pochino del nostro purè delle nostre patate in realtà come vedete non è venuto un purè liscio e cremoso e è la consistenza giusta questa qui un po' più asciutto e un po' più granuloso adesso iniziamo ad impastare come sempre ne frulliamo una metà aggiungiamo a questo punto la quinoa che avevamo cotto precedentemente e infine un pochino di pane grattugiato aggiustiamo di sale e come al solito potete andare giù con le vostre erbe aromatiche preferite mescoliamo bene e l'impasto delle nostre polpette è pronto porzioniamo le nostre polpette come avevamo fatto l'altra volta nello scorso meal prep che trovate nella descrizione chiudo a metà e come se fossero ravioli vado a togliere un pochino l'aria adesso tagliamo chiudiamo i lati per il nostro polpettone mettiamo nella ciotola il purè le patate schiacciate anzi avanzate e le nostre verdure che si sono ammorbidite non dovete cuocerle troppo ma appunto basterà che si siano ammorbidite un po' aggiungiamo la nostra quinoa cotta profumiamo con un pochino di pepe che qua ci sta benissimo secondo me un bel giro d'olio e un po' di sale qua abbondo un po' perché la roba è tanta e ho bisogno che venga bella saporita e possiamo mescolare aggiungo anche le uova me le stavo dimenticando infine possiamo aggiungere il pane grattugiato come l'altra volta avevamo fatto per il polpettone di lenticchie facciamo la stessa cosa per questo polpettone di verdure quindi vado a mettere su un foglio di pellicola un pochino di impasto poi chiudo la caramella e posso arrotolare per ultima teniamo la zuppa quindi ultimissima preparazione prendiamo una bella ciotola e aggiungiamo quello che ci ha avanzato quindi i spinaci i funghi aggiungiamo una zucchina tagliata a cubettini carota e cipolla e un pochino di quinoa secca se volete fare i bravi potete lavare prima la vostra quinoa io la utilizzo direttamente così per stavolta scappa perché non vi faccio vedere il resto della cucina ma è davvero un disastro non ho neanche il posto per sciacquare la quinoa mettetevi nei miei panni quindi mescoliamo bene aggiungiamo un po' di sale qua ci sta benissimo il dado se ce l'avete noi purtroppo l'abbiamo finito lo dobbiamo assolutamente rifare ma voi so che siete più bravi di me e a caso ce l'avete quindi mettetelo un pochino di olio e io mi fermo qua ci potete mettere come sempre quello che preferite quello che vi piace di più riempio i miei sacchetti anche la zuppa la andrò a chiudere sotto vuoto purtroppo la seconda sigillatura non è venuta ho provato sia nel sacchetto più grande che quello più piccolo che avevamo fatto insieme però ha preso pochissimi punti e insomma non è per niente sigillato come vedete perché togliendo l'aria è venuto su il liquido e quindi ha bagnato tutta quanta la plastica però non ho messo dentro un bicchiere d'acqua è il liquido delle verdure quindi pensavo che fosse normale invece purtroppo no perciò niente sigillatura e lo devo andare a mettere nei classici sacchetti gelo come sempre in due ore o poco più la nostra organizzazione delle cene è pronta abbiamo fatto davvero tantissimi pasti con un budget limitatissimo abbiamo speso pochissimo per la spesa poi troverete tutto quanto nella descrizione è un ottimo metodo se ancora non lo conoscete per essere un po' più organizzati dentro casa e spendere sprecare meno tempo per fare la cena ogni sera io vi consiglio di farlo magari con qualcuno vostra sorella vostro marito fidanzato un'amica perché innanzitutto andate più spediti è più semplice essendo insieme poi ci si diverte anche poi magari le cose le potete dividere quindi ne giovate tutti e due giovate si dice ne usufruite tutti e due indipendentemente da questo food saver questa macchina per il sottovuoto vi consiglio invece di fare un salto su quale scegliere e ci tengo a precisare che non ci hanno pagato piccola cosa per chi volesse scriverlo non ci hanno pagato ci hanno soltanto mandato questo elettrodomestico come ho detto 12 volte nel video è un sito molto molto carino secondo me perché vi dà una bella panoramica su quello che sono le specifiche di ogni elettrodomestico in questo modo voi potete capire qual è quello che fa meglio al caso vostro perché tanto se noi ci basiamo soltanto su quello che ci dice un'azienda ogni prodotto è stellare ogni prodotto è fantastico però poi magari non funziona bene invece su questo sito riuscite ad avere un'idea migliore di quello che è è un sito fatto davvero molto bene a me è piaciuto molto anche perché io in primis sono una di quelle persone che prima di comprare un elettrodomestico anche piccolissimo anche banale ci pensa mille volte fa mille ricerche su internet chiede consigli guarda tutte quante le recensioni quindi se anche voi siete come me è sicuramente un sito che vi piacerà molto detto questo io spero tanto che questo video vi sia piaciuto se è così come sempre mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima ciao